Pochi giorni ancora per l'iscrizione ai corsi di formazione dei progetti educativi realizzati nell'ambito di strategie delle aree interne Vallo di Diano. C'è tempo fino al prossimo 25 giugno per poter iscrivere i bambini che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado delle classi prima e seconda. Il programma rivolto a tutti i bambini che frequentano gli istituti comprensivi ed omnicomprensivi del Vallo di Diano, oltre che alle scuole paritarie di Teggiano dell'Istituto Maestre Pie Filippini di Prato Perillo e l'Istituto Santa Teresa del Bambin Gesù di Polla vede come istituto capofila del progetto l'istituto comprensivo di Teggiano diretto dalla preside Rosaria Murano sul cui sito ufficiale all'indirizzo www.ictegiano.edu.it è possibile trovare tutte le informazioni utili per iscrivere i bambini ai tre corsi di formazione previsti dal progetto e che prevedono anche attività a laboratoriali. L'iniziativa punta ad accrescere nei piccoli la consapevolezza del valore storico, culturale, ambientale ed alimentare del Vallo di Diano, una consapevolezza che è alla base della crescita e dello sviluppo del territorio previsto dal programma di strategia delle aree interne. Durante le settimane di corso, che ha dovuto subire modifiche a causa delle nuove regole imposte dall'emergenza Covid, i bambini seguiti da esperti potranno conoscere meglio e divertendosi la loro terra d'origine, in maniera tale da poterla promuovere e valorizzare creando intorno ad essa, nel futuro, lo sviluppo che merita, accogliendone le peculiarità da cui trarre vantaggio economico e sociale.